Vuoi imparare ad utilizzare il cellulare, il computer o il tablet? Scopri l'iniziativa Diventa Digitale, lo sportello per rimanere al passo coi tempi, promosso da la Cassa Rurale in collaborazione con altri enti del territorio. Telefona i numeri 0465 89 65 10 o 0465 89 65 11 e richiedi un appuntamento presso le residenze per anziani di Borgo Chiese, Bagolino, Spiazzo o Bleggio Superiore. Troverai un giovane tutor digitale che ti mostrerà come utilizzare la tecnologia per accedere ad opportunità e servizi online. Non perdere questa opportunità!